20 novembre. Si celebra la giornata universale del bambino e dei diritti dell'infanzia. La data ricorda il giorno in cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato nel 1989 la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il più importante tra gli strumenti per la tutela dei diritti dei bambini. Da allora, nonostante i grandi progressi compiuti, centinaia di milioni di bambini sono ancora costretti a lavorare o vedono le proprie vite e il futuro a rischio a causa di conflitti e crisi o muoiono per cause prevenibili. Le Nazioni Unite hanno affidato all'UNICEF il compito di garantire e promuovere l'effettiva applicazione della Convenzione nei quasi 200 stati che l'hanno ratificata. Grazie per la visione!